Buonasera, benvenuti, grazie di essere qui, grazie a Gianni Vernetti che è il protagonista della giornata di oggi perché autore di questo libro Dissidenti di cui dopo poi ve lo ricorderemo ci sarà firma copie e tutto quanto. Dissidenti è un libro particolare diciamo perché è il frutto di anni e anni di lavoro si capisce dalla mole di incontri che sono stati fatti da Gianni durante il suo percorso professionale negli ultimi anni ed è stato pubblicato in un momento molto particolare della politica estera e internazionale. Per chi non lo sapesse Gianni Vernetti è stato parlamentare, membro della commissione affari esteri e sottosegretario agli esteri nel secondo governo Prodi quindi dal 2006 al 2008. si è preoccupato di esteri fondamentalmente e in quanto tale ha incontrato i dissidenti che uno pensava fossero due, tre, come ai tempi della guerra fredda che erano 4-5, ce lo dicevamo anche prima in realtà invece sono molti, molti di più. Ecco, per cominciare poi è una chiacchierata del tutto informale e diciamo, ti chiederemo, cercheremo di ragionare anche attorno a quello che sta succedendo, attorno all'attualità perché da qui non si può scappare. Però, ecco, scegliere di raccontare dissidenti perché? Io ho il microfono nerazzurro. Intanto grazie Marco, presento Marco perché di sotto lo presentatore non mi è mai presentato, Marco, un ottimo giornalista, direttore del Corriere della Sera di Torino e lo ringrazio per aver accettato di moderare questa riflessione. Ma intanto perché, come tu dicevi, io ho scoperto in questi anni un fenomeno, occupandomi prima di politica estera con ruoli governativi o istituzionali e poi invece più da un punto di vista giornalistico seguendo tante storie in giro per il mondo. Beh, intanto ho prima fotografato quella che provo a definire una sorta di recessione democratica. Cioè, un fatto che dopo la fase espansiva della caduta del muro di Berlino, il 1989, quella che Fukuyama definiva la fine della storia, cioè la diffusione pacifica di diritti, democrazia e libertà, pensate all'Unione Europea, che cos'è stato l'allargamento dell'Unione? Una pacifica diffusione di diritti, democrazia e libertà in uno spazio, diciamo, continentale di quasi mezzo miliardo di esseri umani i quali non l'avevano avuta per sempre e neanche scontatamente questa libertà per l'appunto. Ma questo processo positivo che ha coinvolto tutti i continenti, l'America Latina, che ha coinvolto una parte dell'Africa e una parte dell'Asia, ha avuto un fenomeno di inversione. Che cosa è dovuto a questo fenomeno di inversione? È stato sostanzialmente dovuto a due fatti. Uno, la fortissima arretramento dei diritti in Russia. E oggi, quanto accade in queste ore, è la, inevitabile non lo so, ma è una conseguenza possibile di quel crollo degli standard democratici. Perché in fondo la Russia degli anni 90 era un po' una democrazia imperfetta, un po' confusa, ma era uno spazio nel quale multipartitismo, giornali intellettuali, cioè una certa vivacità intellettuale, che però progressivamente è diventata prima un'autocrazia, una cleptocrazia, cioè un regime in mano a pochi potentati economici fortemente legati allo Stato e poi, invece, definitivamente una dittatura compiuta. L'altro fenomeno, Xi Jinping, nel 2014, la Cina che per vent'anni, diciamo così, aderisce a un processo di globalizzazione economica e grazie alla globalizzazione economica e all'integrazione con la nostra economia, non sempre in dolore per l'economia italiana ed europea, perché le delocalizzazioni, chiudere fabbriche qui per andare a aprirli in Cina a costi ridotti, è stato anche un costo che hanno pagato le nostre economie, il nostro sistema industriale, anche quello del torinese. Ma diciamo, avere una Cina che gode dei vantaggi della globalizzazione e quindi riesce anche a portare fuori dalla povertà milioni di esseri umani, ma che dal 2014 in poi, con la svolta autoritaria di Xi Jinping, diventa un soggetto fortemente autoritario. E allora abbiamo tante storie, la cancellazione della città libera di Hong Kong, il Tibet, un milione di... la minoranza uigura di religione musulmana sunnita con un milione di incarcerati nei campi di concentramento. Ma l'elemento vero che produce la nascita di centinaia di migliaia di dissidenti, perché oggi accanto alla migrazione economica, quello che io ho registrato in questi anni, è un po' stato il motivo che mi ha spinto a scrivere questo libro, raccontando alcune storie, soltanto alcune di queste storie, alcune note, alcune molto meno note, un fenomeno di massa, cioè stiamo parlando di centinaia di migliaia di donne, di giovani, di uomini, di famiglie, di giornalisti, di professionisti, di scienziati, anche scienziati, perché non è soltanto... non immaginate il dissidente degli anni 20 del secondo millennio come era Andrei Sakharov o Vaclav Havel, un notissimo intellettuale, un notissimo scienziato, ma immaginiamo anche migliaia di giovani ricercatori, perché anche, diciamo, c'è un rapporto fra libertà di ricerca scientifica e libertà politica e culturale. Non è soltanto i media, la Novaya Gazeta, l'ultimo quotidiano dove scriveva la Politoskaya, chiuso dieci giorni fa, in coincidenza con l'inizio dell'avventura bellica russa, ma è anche la libertà scientifica e di ricerca che è fortemente condizionata, fortemente limitata nei regimi dittatoriali. Quindi io ho registrato questo fenomeno, ho provato ad analizzarlo e tentato di raccontarlo raccontando, diciamo, questo processo globale che la guerra esacerba, ma era un processo già iniziato, insomma, non è niente di... è drammatico, ma non è un fatto così inedito. Prima di arrivare alla guerra e di entrare un po' nel merito del libro, nel senso che il libro è formato da una serie di racconti, di incontri che tu hai avuto proprio vis-à-vis con alcuni di questi dissidenti e poi un'ultima parte, invece, dove si prova... cioè il titolo di quell'ultima parte è Che fare, dunque? Quindi è come affrontare queste cose. Ma una delle domande che mi viene spontanea a farti è ma l'aumento dei dissidenti, l'aumento dell'autocrazia, le restrizioni delle libertà personali, un caso per tutti, il caso Navalny, per restare alla Russia, eccetera. Noi abbiamo visto, avvertito, raccontato, eccetera. Ecco, ma non erano tutti campanelli d'allarme alle quali la comunità internazionale, l'Occidente, doveva porre un freno, doveva interrogarsi, doveva prendere delle decisioni? Beh, assolutamente sì. Erano più di un campanello d'allarme. Ma rimaniamo soltanto al caso dell'Ucraina. Ricordate la sostanziale inanità e inazione dell'Occidente, in senso lato, Europa, America, comunità delle democrazie, quando nel 2014 la Russia ha occupato illegalmente la Crimea e il Donbass. Non c'è stata sostanzialmente alcuna reazione. Era il primo caso di un intervento militare di una potenza europea che occupava il territorio di un altro paese sovrano dopo la Seconda Guerra Mondiale. Non c'è stata praticamente sostanzialmente alcuna reazione. E qual era il motivo di quella prima invasione dell'Ucraina, diciamo meno eclatante del fatto bellico di oggi? Era sostanzialmente l'aspirazione europea dell'Ucraina stessa. L'Ucraina nel 2014 era governata da Viktor Yanukovych, che era un presidente molto vicino alla leadership russa, che a un certo punto, nel momento in cui il governo e il Parlamento deve discutere la legge che prevedeva l'avvio delle procedure di dialogo con l'Unione Europea, non ancora l'accessione naturalmente, ma all'inizio delle complesse, burocratiche, procedure di dialogo per l'accessione all'Unione Europea, si rifiuta di portare questa legge in Parlamento. Nasce una grande rivolta popolare, cosiddetta la Euromaidan, con giovani in piazza che si sono morti per le strade con la bandiera europea. Quella bandiera che per noi è quasi un fatto, diciamo così, noi oggi spesso percepiamo l'Unione Europea come una summa di burocrazia, una complicazione, quasi un ulteriore fastidio che si aggiunge alla nostra già vita complicata nei rapporti con lo Stato e con le istituzioni. Invece per qualcun altro, in questo caso per i giovani ucraini, era una speranza di un posto migliore, una speranza di diritti, di libertà. Beh, se uno va negli altri paesi dell'est Europa che adesso fanno parte dell'Europa, tipo in Estonia, si capisce che l'Unione Europea ha inciso parecchio, quindi posso capire che gli ucraini, i giovani ucraini, siano stati così attratti da quella bandiera che significava una vita migliore. Assolutamente sì, ma guarda, io racconto molto della piccola Lituania, perché secondo me è un caso, è un modello interessantissimo, no? Cioè la Lituania, pensate alla storia della Lituania, piccolo paese di un milione e mezzo di abitanti, nel 39 era chiamata la Gerusalemme del Nord, era 50% della popolazione della popolazione ebraica, quindi vive il dramma del nazismo. Quindi immaginate, il 50% della popolazione della capitale di Vilnius viene deportata e uccisa, ma con tassi intorno al 97-98%. Quindi diciamo, subisce violentamente il dramma della seconda guerra mondiale. Poi viene scambiata nel patto tra Molotov e Rippentroff, cioè tra Stalin e Hitler, viene scambiata insieme agli altri due piccoli paesi baltici, la Lettonia e l'Estonia, nello scambio, nell'infausto accordo fra le due dittature, quella di Stalin e quella di Hitler. E quindi entra nell'orbita sovietica. Quindi, finita la guerra, immaginate un paese che a differenza niente piano Marshall, niente libertà, niente ricostruzione, ma ripiomba in altri trent'anni di ossessione staliniana. E quindi anche il divieto della lingua lituana, le deportazioni, cioè vive ancora... Ecco allora, un paese come questo, oggi, diciamo che è forse il simbolo di chi ha vissuto sulla propria pelle entrambi i totalitarismi dello scorso secolo e che ne ha subito le terribili conseguenze, oggi è un po' il modello invece di cosa si dovrebbe fare. La Lituania oggi è di gran lunga il paese dell'Unione Europea che ha avuto più coraggio, ha aperto un ufficio di Taiwan perché non ha arretrato di fronte al bullismo e alla minaccia della Repubblica Popolare Cinese, è tra i primissimi paesi che ha guidato l'Unione Europea nell'adottare provvedimenti di sostegno alla resistenza alle forze ucraine, quindi è, diciamo, un modello. Io parlo poi, diciamo, poi come tu osservavi, tento anche di fornire qualche ipotesi di che cosa potrebbe fare di più l'Occidente. Tante cose. Tipo? Beh, non voglio scivolare subito alle conclusioni del che fare. No, cosa avrebbe dovuto fare? Mettiamola così, poi ci lasciamo sul che fare e andiamo verso la fine. Beh, avrebbe dovuto fare esattamente, purtroppo, quello che stiamo facendo in ritardo oggi. oggi, stamattina, il Parlamento Europeo a mezzogiorno ha votato una risoluzione storica, l'embargo totale agli acquisti di gas, petrolio, carbone, forniture energetiche da parte della Russia. Cioè, dobbiamo accettare dei sacrifici. Cioè, diciamo, di fronte agli autoritarismi, di fronte alla violazione delle regole fondamentali, di fronte alla violazione dei diritti, dobbiamo assumere dei rischi. Noi abbiamo sempre vissuto in questa, diciamo, condizione positiva dove non abbiamo accettato nessun rischio, no? E quindi, bene la globalizzazione dell'economia e va bene, chiudiamo un occhio sugli Uiguri e su Hong Kong perché ci conviene a tutti fare affari con la Cina. Terribile quanto sta accadendo la politoscaia ammazzata, Boris Nemtsov, Navalny ha avvelenato, ma noi continuiamo, e oggettivamente noi oggi, oggi, queste ore, noi stiamo pagando la guerra in Ucraina con gli acquisti, con le forniture, con gli acquisti massicci di gas e petrolio. Avremmo dovuto diversificare le fonti energetiche. Perché non è stato fatto? Ma è per poco coraggio, comodità, incapacità politica, anche qua, la differenziare alle scelte energetiche ci va del coraggio, anche qualche costo da assumere perché magari all'inizio le rinnovabili sono più costose della comodità e poi anche una certa commistione. Beh, non dimentichiamoci che il primo ministro della, Gerard Schröder, il primo ministro della Repubblica Federale, tedesca, è stato primo ministro per almeno due mandati, forse due o tre. Una decina d'anni. Eh, una decina d'anni, ed è finito il suo mandato e è diventato membro del Consiglio di Amministrazione di Gazprom. Ed è stato l'autore di Nord Stream 1, l'attuale gasdotto che fornisce una gran parte delle forniture energetiche tra la Russia e la Germania, e il promotore, l'inventore, il raccoglitore di fondi di Nord Stream 2 e quindi il gasdotto che, se Dio vuole, è stato interrotto per evitare di legarci ancora per i prossimi trent'anni. Io capisco, e rimaniamo un attimo sulla politica, soprattutto l'Italia, io capisco che non si abbia la forza di cambiare, prendere delle decisioni che scontentano, che fanno alzare i prezzi, eccetera, ma nel corso degli anni, per esempio, tutta la parte che riguarda la Cina cozza un po' con invece l'iniziativa italiana nell'avere rapporti con la Cina, l'ultima, la via della seta, credo l'Italia, unico paese dell'Europa che ha firmato un pato. Allora, lì non si tratta di subire dei accordi pregressi, si tratta di avere invece un'iniziativa politica precisa di avere un certo tipo di rapporto con un certo tipo di paesi. Anche quello, come si spiega? Noi ereditiamo una, e lo vediamo anche ogni tanto nei talk show in prima serata, il nostro paese è un paese che è un grande paese di grande storia, grande cultura, ma anche con qualche difetto. Noi per due volte se abbiamo iniziato la prima e la seconda guerra mondiale dalla parte sbagliata della storia, cioè se analizziamo la nostra storia, e quindi non mi meraviglia che ci sia ancora in una parte del mondo politico italiano e purtroppo occidentale una certa affascinazione per i regimi. Cioè c'è una parte della nostra società che è attratta culturalmente dai regimi, che ritiene una strada semplificata riguarda molto trasversale, non è soltanto i grillini che hanno fatto gli accordi, firmato la via della secca, che peraltro è poi stato irrilevante dal punto di vista alcun vantaggio economico c'è stato per l'Italia, ma c'è anche il nostro ex primo ministro che sta nel board di Mohammed Bill Salmani in Arabia Saudita, parlo di Renzi, è molto trasversale il fatto, non è soltanto un po' di matti all'estrema destra o all'estrema sinistra, ma molto 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 trasversale, è un po' quella cultura, ma qui è un tema di una cultura e di tradizioni di politica estera, no? Cioè l'appeasement con i regimi non è solo Chamberlain nel 1938 che permise a Hitler di invadere la Bohemia e la Moravia con la scusa dei suddetti, peraltro scusa che è identica alla narrativa che oggi sta usando Putin nella minoranza russa nell'Ucraina dell'est, identica, ma qui è una cultura che è fatta di realpolitik, cioè l'idea che a volte è meglio lo status quo dei regimi dittatoriali piuttosto che i rischi del cambiamento, questo è un po' il tema e quanto ci raccontano i dissidenti che ho incontrato ci dicono esattamente questo, abbandonate la realpolitik, abbandonate la Pismet, abbandonate lo status quo, assumete qualche rischio nelle relazioni internazionali. C'è qualche, c'è un fir rouge tra tutti i dissidenti che ha incontrato? Sì, secondo me il vero fir rouge è che forse sono tutti dissidenti un po' per caso, non per scelta, cioè che alla fine quella condizione non è una condizione di vita facile, è spesso una condizione di vita estrema che ti porta magari a essere separato dalla tua famiglia per 30 anni, 40 anni, con la certezza magari di mai più rincontrarla e il fatto che molti di questi non erano leader politici nati con l'idea di diventare leader politici, io ne racconto tantissime, pensate a Sviatlana Tikhanushkaia, la leader della Bielorussia, insegnante d'inglese che avrebbe voluto continuare a fare insegnante d'inglese felicissima, è diventata per caso suo marito, un noto giornalista che denunciava la corruzione, prova a candidarsi alla presidenza della Repubblica, viene arrestato, lei è costretta con altre due donne a fare questo trio di questa candidatura, poi vince, poi colpo di Stato, poi va in esilio, ma le storie sono tantissime. come l'Afghana, io non ripeto i nomi perché non riesco, però l'Afghana... Beh, la Shukriya Barakzai è un altro caso, capirete che... Capisco che... No, il caso di Shukriya Barakzai è un altro caso, a mio giudizio, paradigmatico, perché lei era una donna di una famiglia benestante, di Kabul, di professionisti, insomma lei a un certo punto nel primo regime talibano quando i talebani dopo che l'Afghanistan ereditava un periodo di un certo secolarismo fonda le prime scuole clandestine per le bambine e per le ragazze e ne fonda una dozzina sparse in tutta la periferia di Kabul nel centro... E quindi lei fonda le scuole clandestine dove le bambine e le ragazze potevano riprendere e andare a scuola dopo il divieto dei talebani e naturalmente cade il regime talebano e per caso diventa poi una leader politica fonda un partito in Parlamento diventa Presidente prima donna Presidente della Commissione Difesa subisce un attentato terribile riesce a fuggire io l'ho risentita nei giorni di Ferragosto dell'altro anno a Kabul e lei miracolosamente è riuscita i talebani l'hanno riconosciuta tornati dopo il vent'anno era un volto notissimo ovviamente come puoi immaginare rischiato di una pelle oggi vive in un appartamento di 35 metri quadrati a Londra in fuga con pochi soldi con grande difficoltà Ecco hai ricordato i fatti di Ferragosto anche lì nel silenzio generale forse perché erano distratti perché eravamo al mare sì c'è stato due giorni tre giorni l'aeroporto i bambini la gente che vuole scappare eccetera questo è stato secondo te un altro segnale per Putin di dire vabbè la comunità internazionale è tanto qua io posso fare quello che voglio assolutamente sì assolutamente sì perché questo è un tratto distintivo delle dittature dei regimi cioè le dittature dei regimi non percepiscono la disponibilità al dialogo in questo caso il ritiro cioè decidere che l'occidente dopo vent'anni che era in Afghanistan ha deciso di ridurre un proprio impegno peraltro criticato da moltissime voci la disponibilità al dialogo il ritirarsi è percepito come un elemento di debolezza e quindi i dittatori hanno parametri diversi dai nostri dei diritti dello stato di diritto e quell'elemento di debolezza Putin inizia anche da molte notizie di intelligence che emergono in queste ore emerge un quadro chiarissimo da questo punto di vista cioè lui pensava di trovarsi a Kiev la Kabul del 2022 cioè lui pensava a un governo corrotto pensava a Zelensky che si infilava in due valigioni 10 milioni di dollari e scappavano non so a Cipro a Dubai o dove o dove volesse lui e che collassasse quel paese e anche qui ti raccontavo la narrativa del 38 dei sudetti no? Cioè quest'idea che lui racconta questa narrativa di voler fare questo intervento militare per tutelare la minoranza di lingua russa dell'Ucraina è tutto finto cioè oggi a Kharkov dove vivono il 95% di cittadini abitanti di lingua russa che peraltro non è così drammaticamente differente dall'Ucraina è una lingua molto vicina molto contigua una storia molto contigua è tutto falso quindi da questo punto di vista lui si immaginava un Afghanistan del 2022 un crollo e invece si è trovato un presidente della repubblica coraggioso Zelensky C'è chi dice che sia questo suo coraggio sia un ostacolo a portare Putin a un tavolo? Diciamo io questo non lo so però io so che Zelensky intanto gli ha smontato questa follia del denazificare l'Ucraina lui è un ebreo eletto democraticamente ha anche una storia curiosa nasce come nasce con uno showman di una trasmissione televisiva anche un po' populista invece si è rivelato un grande leader politico in queste giornate ma non è solo Zelensky alla fine quando tu riesci con fatica a consolidare delle istituzioni democratiche in un paese e allora inizia ad avere un parlamento un governo la stampa libera associazioni sindacati cioè inizia ad avere quelle infrastrutture della democrazia che per noi oramai sono un fatto normale beh alla fine questa è che ha fatto la differenza oggi in Ucraina cioè dimostrare che esisteva un paese che non era un paese finto tribale che è pronto a cadere corrotto fino al midollo non era così è un paese vero con ambizioni europee che nella sua libertà voleva scegliere un proprio percorso un proprio destino che è naturalmente europeo ed è pure atlantico anche se forse alla fine la Nato rimarrà sullo sfondo di questo come esito ma io penso che sia molto più importante l'adesione dell'Unione Europea dell'Ucraina ancora più che la Nato quindi ha fatto veramente ha sbagliato i conti ha sbagliato i conti però spesso capita ai dittatori e tante altre storie che incrocio in Turchia in Iran cioè le dittature alla fine creano un cortocircuito e un processo decisionale diciamo ristretto a pochi sicofanti a pochi yes men a una catena di controllo e comando minuscola beh quando tu riduci e semplifichi così è chiaro che spesso la realtà si perde di vista la realtà si perde di vista la realtà nei tuoi incontri con i dissidenti una cosa che mi interessa cioè io sono la parte che mi ha interessato sì bene diciamo l'analisi politica e anche quello che potrebbe succedere poi in questa fase insomma è decisamente rilevante ma ogni tanto si legge quasi come se fosse un romanzo no? cioè la storia dei dissidenti sono storie vere cioè che tu hai visto hai toccato hai parlato eccetera ne escono tutti tutti molto bene c'è qualcosa che tu non hai messo nel libro c'è qualche segno di pentimento guarda che vita che mi tocca fare in qualcuno che hai incontrato eccetera o sono o la determinazione è ancora molto no in realtà molti di loro sono persone molto fragili molto fragili estremamente in difficoltà se tu per esempio uno dei primi che io racconto questo Wuer Kaishi è diventato famoso per essere era uno dei leader di Tiananmen quando aveva 19 anni per chi se lo ricorda fu mandato iniziò questo lungo sciopero della fame crolla quasi fino a svenire viene ricoverato in ospedale poi il primo ministro cinese di allora accetta un confronto televisivo lui lo prendo dall'ospedale e va in prima serata alla tv cinese in pigiama quindi se c'è il link sul libro lo trovate su youtube senza difficoltà beh però lui racconta la sua storia è una storia di estrema fragilità io l'ho incontrato 3-4 volte a Taiwan dove vivi in esilio l'ho incontrato poi di nuovo anche qui in Europa beh ti racconta persone che alla fine come ti dicevo veramente esiliati e rifugiati gli studenti spesso non per scelte ma veramente per caso però quando poi ti racconta del fatto che lui è certo che la sua famiglia una parte della sua famiglia è stata rinchiusa nei campi di concentramento nel sinchian cinese addirittura un suo fratello che lui non vede da 25 anni è stato incondanato a 9 anni solo per essere suo fratello cioè ti raccontano molte storie sono storie veramente drammatiche che alla fine denotano non sono grandi guerriglieri non sono guerriglieri grandi guerriglieri sono persone umanissime con una grande fragilità un'altra domanda che ti volevo fare sempre diciamo trasversale tra tutti i dissidenti è il ruolo di internet cioè essere dissidenti nel 2022 è diverso dall'essere dissidenti negli anni 80 no? tramite internet Navalny bene o male continua a mantenere alta la bandiera mettiamola così ecco e quale può essere il ruolo di internet della rete del networking che si riesce a creare anche al di fuori del confine per continuare magari a mandare messaggi dentro e continuare la battaglia seppur in esilio ma no certamente diciamo la rete globale la capacità di far circolare rapidamente informazioni naturalmente è stato un elemento di svolta per tantissimo movimenti politici anche i più remoti nei paesi più irraggiungibili tieni conto che però oggi stiamo andando alla creazione di due internet nel mondo cioè l'internet dei paesi liberi e l'internet delle autocrazie quando la tennista Peng Shuai non devi ripetere tutti i nomi ti aiuto la tennista Peng Shuai denunciò in pubblico di essere stata stuprata un anno prima da un noto dirigente del governo cinese mi pare che fosse il vice premier scusate non mi ricordo il nome ma è riportato venne immediatamente il suo nome cancellato cioè diciamo il livello gli algoritmi delle dittature hanno raggiunto un livello di predittività di elaborazione di sofisticazione che inimmaginabile dal povero Orwell che immaginava già cose molto simili ma inimmaginabile dal punto di vista dell'evoluzione tecnologica allora Peng Shuai il nome di Peng Shuai è stato cancellato dalla rete ma questo fin qui è semplice ma pensate che pure per un mese se tu digitavi tennis cioè la parola tennis su un qualunque motore di ricerca della Repubblica Popolare Cinese si è parlato di un miliardo di persone che hanno accesso a internet non trovavi nulla trovavi error not found 404 quindi è vero che oggi c'è la rete ma sempre di più per esempio la Cina in alcuni consessi adesso sarà interessante capire cosa succede adesso oggi al Consiglio dei Diritti se veramente la Russia fosse sospesa la Consiglio dei Diritti delle Nazioni Unite era arrivata una notifica del Corriere della Sera non so se conoscete perché si possono attivare le notifiche che dice che è stata sospesa questo è un fatto è un fatto rilevante che gli dà anche dignità alle Nazioni Unite perché tenete conto che questa guerra in Ucraina potrebbe far anche crollare duramente la credibilità delle Nazioni Unite stesse perché un sistema che si regge con due grandi dittature con potere di veto rischia di essere strutturalmente debole questo fatto è importantissimo ma dicevamo la Cina per esempio all'interno del Consiglio dei Nazioni Unite sta cercando di rovesciare il racconto per esempio è da alcuni anni che sta provando a far diciamo così accanto a quelli che sono diciamo i pilastri cardini dei diritti universali i principi universali la carta universale dei diritti dell'uomo la Cina in modo molto sistematico per esempio sta cercando di far passare il principio della sovranità di internet la sovranità di internet che cos'è? c'è il diritto di uno stato sovrano di poter decidere come regolare internet a casa sua ma appunto eliminando l'accesso della tennista scomona che aveva denunciato uno stupro addirittura se tu digiti Dalai Lama da un internet caffè a Pechino finisci non ti appare mai la foto di Dalai Lama ti appare qualche tempio qualche cosa quindi per esempio il tentativo costante di regime delle dittature di riscrivere le regole che determinano i diritti fondamentali non li è ancora riusciti proprio il concetto della sovranità di internet è un tema che io analizzo quindi noi io credo è possibile che questo mondo vada a ridisegnarsi lungo due le storie non si ripete in modo identico non so se sarà una nuova guerra fredda ma sicuramente la possibilità che oggi la comunità delle democrazie da un lato che è comunque attrattiva che è ancora con grande possibilità espansive e dall'altro la comunità delle autocrazie la Russia la Cina forse in Iran diciamo così creino mondi che via via potrebbero ulteriormente separarsi e allora il fatto che nascano due grandi reti molto 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 poco con poche connessioni una con l'altra è una possibilità concreta ecco questo però appunto vorrebbe dire rivedere tutti i rapporti con quei paesi tipo la Cina beh ma così sta succedendo perché guarda che anche diciamo purtroppo le richiamo all'attualità inevitabile ma guardate la Cina che in teoria è un attore più responsabile della Russia sulla scena globale in teoria come si presenta è una grande potenza quasi la prima potenza economica del mondo stabilmente la seconda la Russia oggi ha un pic che è minore di quello dell'Italia stiamo parlando di dimensioni incomparabilmente la Cina cresce di una Russia all'anno la Cina cresce di una Russia all'anno ma l'Ucraina ha un pic che è minore del Veneto cioè stiamo parlando purtroppo di paesi molto poveri cioè quando discutiamo di Russia e Ukraine parliamo di paesi ancora con uno stipendio medio di 250 dollari al mese stiamo parlando di paesi in grande difficoltà ancora economica ecco la Cina oggi si pone come un'alternativa possibile ma e la partita che sta facendo cioè all'inizio della guerra ci si diceva tutti la Cina trae vantaggio dalla globalizzazione la Cina trae vantaggio dai rapporti dal mondo aperto no? per cui non starà mai con la Russia ora è vero che non ha mai fatto nulla di apertamente a favore della Russia ma è lì che traccheggia perché? perché la Cina come io provavo nel racconto che svolgo c'è un tema che ricorre cioè ed è anche un po' diciamo l'ipotesi di fondo di questa ricerca di questo volume che le dittature i regimi il mondo il liberale non è solo un danno per quel miliardo miliardo e mezzo un miliardo 800 milioni di esseri umani oggi costretti a vivere all'interno di quella parte di mondo dove non esiste la libertà dove non ci sono i diritti dove vengono negati duramente ogni giorno ma stanno diventa anche un fattore di esportazione di instabilità globale guarda la via della seta non è soltanto una pacifica diffusione della saggezza cinese è un modello di rapporti economici che contiene elementi di esportazione autoritaria io faccio alcuni esempi africani cioè nel rapporto fra la repubblica popolare cinese e alcuni paesi africani non c'è soltanto gli accordi per costruire ferrovie ponti strade che uno potrebbe diciamo analizzarli anche fornire una valutazione positiva per esempio nella cooperazione fra la repubblica popolare cinese e Uganda c'è stato in questi tre anni l'Uganda è un paese che ha sostanzialmente il primo paese che ha dichiarato l'omosessualità un reato quindi con arresti e galera fino a 7-8 anni ha chiuso ogni tipo di stampa libera quindi ha avuto una pesantissima involuzione di recessione democratica la cooperazione cinese con questo paese ha affiancato alle ferrovie alle strade tecniche sistemi di sorveglianza telecam diciamo tutti l'apparato di sicurezza l'esportazione delle tecnologie di controllanza di sistemi di controllo di sicurezza quindi c'è contiene quel tipo di proposta di progetto di sviluppo elementi di esportazione di un modello autoritario e quindi questo è un tema cruciale tra i dissidenti diciamo più tra le persone tra gli oppositori più che dissidenti che noi occidentali abbiamo imparato a leggere sui giornali a guardare nei documentari eccetera eccetera ce ne sono alcuni uno che tu hai deciso di mettere nel libro e ti chiedo perché che è Puigemont catalano e l'altro che non è stato messo nel libro che è Julian Assange secondo alcuni invece perché? l'ultima è la principale critica che mi fanno i miei figli su questo torno allora Carpuigemont sì intanto di certo io non penso che la Spagna lo ricordate quello del referendum catalano io non penso che la Spagna sia una dittatura anzi penso che la Spagna sia un posto civile democratico certo forse anche con un'infrastruttura nella quale un certo conservatorismo religioso un'influenza della chiesa cattolica molto molto forte nella società maggiore di quanto sia in Italia è certo ancora una magistratura che ha diciamo connessioni diciamo anche se non dirette per lo meno culturali con una parte del regime franchista però detto questo io penso sia un paese democratico è un paese importante dell'Unione Europea quanto però è accaduto nella repressione dell'ipotesi indipendentista catalana io ho ritenuto utile registrarlo perché il primo ottobre del 2017 questo referendum che non era altro che un sondaggio non aveva nessun valore regale era un referendum auto-organizzato dal Consiglio regionale catalano di cui Puigdemont era presidente con i seggi e con un tentativo di far esprimere in modo tra non legittimo certamente ma neanche non si stava compiendo alcun reato di ribellione era un po' più strutturato della Fada Agna queste cose qui sì ma non si stava compiendo alcun reato la reazione dello Stato spagnolo è stata talmente dura talmente violenta se voi pensate gli attacchi ai seggi le mille feriti centinaia di arresti e condanne del presidente della regione di una regione europea il presidente del Parlamento del Parlamento catalano siccome se fosse il consiglio regionale il presidente della giunta i membri del governo lì si chiamano ministri perché c'è già un forte grado di autonomia condannati tra i 9 e i 13 anni di galera costretti all'esilio a Bruxelles c'è una reazione sproporzionata a mio giudizio inaccettabile quindi peraltro per un movimento che non è che ha in mente giusto o sbagliata l'indipendenza della Catalogna io posso dirti la mia opinione la prospettiva sono gli Stati Uniti d'Europa non c'è dubbio e se all'interno degli Stati Uniti d'Europa alla fine quello che sarà gli Stati Nazionali tra 20 anni chi lo sa onestamente però diciamo è stata talmente una reazione così dura e fortemente criticata da una parte rilevante del mondo democratico internazionale che mi è sembrato giusto registrare e raccontare il dialogo con lui che è una testimonianza e tiene ancora che oggi continua a vivere in esilio Bruxelles nonostante che è stato eletto al Parlamento Europeo con 2 milioni di voti dei catalani cioè 50% del voto democratico cioè diciamo esiste questa pulsione in quella società non credo che la soluzione sia accusarli con una scelta giudiziaria utilizzare diciamo lo strumento della magistratura e non quello della politica perché il vero tema è il dialogo politico usare la magistratura e risolvere un problema con la scura giudiziaria quindi questo è il tema fa specie che uno sia dissidente di una democrazia liberale inserita nell'Unione Europea è stata una scelta forte all'interno del libro ma intanto perché come si dice in inglese nothing is never granted forever cioè nulla è dato per sé cioè le democrazie sono una cosa delicata sempre da migliorare che può sempre diciamo con delle debolezze sempre da nutrire come è evidente da nutrire quindi da questo punto di vista diciamo perché no perché non raccontare l'ho fatto con l'ho scelto in modo preciso Assange è un tema a mio giudizio delicato intanto tu dici perché non l'ho messo uno è anche quando scrive un libro è anche un po' libero diciamo a quella libertà almeno scrivendo un libro uno diciamo si può levare qualche sfizio diciamo io c'ho un po' anche qualche pallino insomma io ho grandi simpatie per lo Stato di Israele che riesco a infilarlo in vari parti del libro in modo un po' arbitrario magari a volte però sono pallini che uno sfizzi intellettuali e anche politici no Assange Assange è diverso io ritengo Assange certamente ha fatto della libertà assoluta di internet una sua battaglia che io condivido della libertà totale della circolazione dell'informazione una sua battaglia che io ritengo condivisibile oggettivamente il rendere pubblici milioni di cablogrammi del Dipartimento di Stato americano trafugati trafugati illegalmente alcuni ancora non desecretati cioè voi sapete che tutti gli Stati democratici hanno delle regole sulla propria intelligence dopo un po' di anni tendenzialmente ma non necessariamente però c'è un problema di tutela delle democrazie non è che i servizi segreti si sono controllati da un sistema democratico se non sono deviati e quindi che fanno porcate come è capitato anche nel nostro paese ma si sono controllati da un sistema democratico i servizi segreti sono una cosa utile sono uno strumento di analisi sono uno strumento di intelligence sono uno strumento che dovrebbe servire a prevenire i problemi e i pericoli a prevenire i rischi di attentati di terrorismo o a cogliere fenomeni quindi diciamo oggi sempre di più l'intelligence è fatta di giovani molto smart molto intelligenti analisti che studiano nelle migliori università non è più il goffo agente segreto super armato che ti ammazza non è più così James Bond esatto quella è la versione più nobile ma poi c'è anche la versione ecco però diciamo c'è aver trafugato illegalmente questi dati è di paesi occidentali tutti e soltanto paesi occidentali perché non è che questo lavoro l'ha fatto in Cino in Russia o nelle dittature o nell'Iran che sta perseguendo l'arma nucleare per distruggere Israele o in Turchia che nonostante sia nella nata un paese che in questi dieci anni ne ha fatte di cotte di crude nei confronti delle donne dei diritti dei diritti civili quindi è stata un'azione tutta rivolta diciamo nei confronti degli Stati Uniti e alcuni paesi europei e alcuni paesi europei tra cui l'Italia rendendo pubblici documenti riservati e purtroppo abilmente clamorosamente utilizzati dalla Russia e dalla Cina come strumento per mettere in difficoltà il mondo democratico quindi questa è stata la mia scelta bene mi sembra senti torniamo invece a quello che hai scritto e torniamo alla parte se vogliamo più interessante cioè la parte più politica il che fare dunque si paventa nel bilancio che fai finale la possibilità che si crei quasi una nuova ONU una libera alleanza tra le democrazie che possa perseguire quegli obiettivi che l'ONU non riesce più a perseguire perché è immobilizzata dal fatto dal potere di Veto in consiglio di sicurezza dall'Assemblea Generale ma quindi l'ONU diventa inutile quasi? ma io intanto i conflitti e i grandi sommovimenti geopolitici modellano le organizzazioni internazionali fra gli stati la Lega delle Nazioni è morta nelle macerie della prima guerra mondiale cioè oggi le Nazioni Unite con un consiglio di sicurezza nel quale siedono con potere di Veto le potenze vincitrici della seconda guerra mondiale e tra queste potenze vincitrici una per meno la Russia l'altra la Cina è stata inclusa non marginale nel conflitto mondiale ma certamente preso atto che fosse un grande player globale sono un grande problema perché io non lo racconto ma io ho incontrato recentemente Ban Ki-moon l'ex segretario generale delle Nazioni Unite al quale gli chiedevo ma perché come mai le Nazioni Unite hanno votato ad un certo punto la dottrina della responsabilità di proteggere la responsibility to protect che è un documento importante nato dopo il genocidio del Ruanda quindi che in teoria ipotizza meccanismi di prevenzione delle tragedie e che prevede fino ad autorizzare l'uso della forza per prevenire i genocidi e quindi sappiamo benissimo che nel caso del Ruanda bastavano mille soldati si sarebbe impedito quella mattanza di un milione di esseri umani bastavano mille soldati delle Nazioni Unite ben armati con regole di ingaggio chiare e lo stesso Ban Ki-moon dice io addirittura ciò nei suoi tantissimi inviati speciali uno dei miei inviati è un inviato speciale che io ho nominato che ha la responsabilità di analizzare e implementare la dottrina dell'ingerenza umanitaria ed è la responsabilità di proteggere io non posso neanche dargli un ufficio parlavamo prima del Covid l'ho visto nel 2018 lui lavora da casa non li posso dare l'ufficio perché russi e cina non me lo permettono questo per dirti come oggi quindi quel sistema ha dei vincoli perché l'idea della tutela assoluta della propria sovranità cioè di quando lo diceva bene in Audi la sovranità nazionale è un idolo immondo all'interno del quale il sovrano è titolato a poter fare ciò che vuole e quindi a esercitare il libero arbitrio totale quindi le Nazioni Unite sono in grandissima difficoltà potrebbero uscire fortemente compromesse da questo conflitto fortemente compromesse analizziamo il mondo Giappone e Germania che sono due grandi democrazie che hanno perso sono state uscite sconfitte dal secondo conflitto mondiale ma sono oggi due grandi potenze democratiche potenze economiche che non hanno voce in capitolo nel sistema decisionale cuore delle Nazioni Unite l'India grande democrazia con un miliardo e trecento milioni di esseri umani non ha ruolo nel sistema delle Nazioni Unite io dico dureranno ancora 50 anni ma sono efficaci no sono efficienti tanto meno è chiaro che bisognerà andare per successive approssimazioni ma sicuramente i conflitti poi accelerano il mondo poi che sembra bloccato si mette a correre in un modo pauroso anche a volte in reazione ai conflitti ma certo la suggestione del Summit delle Democrazie che si è tenuto lo scorso 9 dicembre 8-9 dicembre online è un tentativo di una comunità delle democrazie che non solo dialoga che non solo discute che non solo organizza l'Erasmus e l'Erasmus Plus per mandare i giovani a studiare in giro per il mondo ma che si impone il problema di costruire un sistema di sicurezza collettivo si impone un problema non soltanto di globalizzare le merci ma di globalizzare i diritti e questo è un altro tema che io poi tocco alla fine ha senso che noi la globalizzazione beh sì ha senso che noi oggi per esempio le Nazioni Unite giustamente ci chiedono di fissare nel nostro prodotto interno lordo dei paesi avanzati paesi ricchi lo 0,7% del nostro prodotto interno lordo da dedicare alla cooperazione e allo sviluppo splendido bene pozzi d'acqua nel Sahel educazione e istruzione nelle scuole del Kenya della Tanzania o che ne so io pannelli solari in Bolivia tutto stupendo ma io credo che forse è nel nostro interesse strategico non soltanto lo sviluppo umano ma anche il consolidamento dell'infrastruttura della democrazia allora io faccio una serie di proposte dove credo che affiancare alla cooperazione dello sviluppo anche una cooperazione democratica finanziare e sostenere i giornali indipendenti a rischio di chiusura delle democrazie in transizione io penso che valga quanto fare un pozzo nel Sahel fornire ai giovani giornalisti che fanno il giornalismo di inchieste indipendenti a quelle tecnologie i VPN quelle tecnologie che ti permettono di poter usare la rete senza essere tracciato io penso che ripeto valga come una scuoletta in Tanzania che non vuol dire non fare la cooperazione per lo sviluppo nei paesi poveri per Dio o nei paesi in via di sviluppo ma vuol dire capire che dobbiamo orientare e affiancare certo dopodiché sai che i critici di questa cosa dicono esportare la democrazia non è mai riuscito nessuno e anche quando si è cercato di farlo è stato un bagno in sangue sì però è vero e anche il termine esportazione della democrazia è un bruttissimo termine quasi mercantilistico quasi quasi transazionale però io prima bevendo un caffè con Elena la 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 nuova da un po' direttrice del ciclo di attori parlavamo di un libro che io consiglio veramente se uno vuole occuparsi di lotte di liberazione dissidenti di Gianni Vernetti no no dissidenti no è uno molto più autorevole se qualcuno ha letto Esodo e liberazione di Michael Walzer o Walzer dipende come lo si legge beh c'è un archetipo nella storia della liberazione e anche possiamo lasciare anche da parte della religione facciamo un'analisi secolare come fa lui dell'Esodo e alla fine la pulsione di libertà non è graduabile non è regolabile c'è un istinto di liberazione della schiavitù che dall'Esodo degli ebrei della lotta contro il faraone è più forte di ogni altra e poi è sempre Walzer e poi ragiona sulla terra promessa che non come paradiso diciamo immaginifico ma come un luogo semplicemente dove poter vivere meglio dove poter vivere senza un sovranno che decide che cosa devi fare dove poter avere dei diritti ecco secondo me c'è un elemento diciamo fondante e anche quel relativismo quella follia che ti dice no i cinesi che sono da 3.000 anni che sono abituati ad avere prima i mandarini e poi le dinastie poi Mao Zedong oppure gli altri che hanno avuto lo Zare poi Stalin o gli arabi non è vero non è vero perché invece quando hai l'opportunità di poter essere libero quella libertà e quella democrazia te la porti via a piene mani cioè quindi il tema è anche un atteggiamento culturale che va mutato cioè abbandonare il relativismo culturale no? questo che dice per l'appunto c'è una parte di mondo che non è abituato in fondo i diritti ma i diritti ce li siamo conquistati ce li siamo conquistati anche con la ghigliottina del 1789 cioè anche con drammatiche violentissime guerre di liberazione no? perché di ciò si è trattato non è che i diritti sono arrivati qui in occidente così perché per un caso è una fortuna della storia quindi un po' quello che è un po' il percorso di questo volume ed è un po' anche molto quello che ci raccontano c'è una pulsione c'è una voglia di libertà e democrazia che oggettivamente travalica etnie razze costumi usanze storie fatti pregressi sovrastrutture diciamo c'è e prevale e quando può esprimersi ecco insomma in una parola la libera scelta oggettivamente può far cadere i tiranni questo è molto vero resta il fatto che le democrazie in quanto tali forse non riescono a essere valide nel tutelare le democrazie altrui evidentemente no? cioè prima parlavi del summit delle democrazie 8-9 dicembre non è che Putin si è preso paura di questa cosa qua anzi è andata avanti così come ci stiamo interrogando è giusto non è giusto anzi mi piacerebbe sapere da ex uomo di governo se secondo te è corretto aumentare le spese del PIL per le spese militari se bisogna pensare ad un esercito europeo e quindi se per garantire democrazia altrui dobbiamo non dico ridurre la nostra democrazia però sicuramente fare degli sforzi mentre ultimamente mi sembra che tutta quanta la comunità occidentale sia un po' seduta comodamente abbandonata ai propri smartphone mettiamola così ah sì guarda le spese militari io penso che la richiesta dell'alleanza atlantico di allinearsi e di portare al 2% le spese di militares sia una necessità non sia una splendida scelta alla quale diciamo aderire con entusiasmo è un fatto cioè è una necessità come l'esercito europeo che vuol dire la somma degli eserciti nazionali dei paesi che formano l'Unione Europea conta 17 carri armati diversi il tema è lo stesso diciamo io penso che noi dobbiamo tendiamo tenderemo inevitabilmente penso che anche il conflitto in Ucraina accelera questo processo acceleri questo processo tendiamo inevitabilmente verso una maggiore coesione e integrazione europea io credo che la difesa europea sia una necessità ineludibile e quindi anche da questo punto di vista una maggiore integrazione europea porterà a un sistema di difesa europea più forte più coeso come probabilmente una politica energetica comune evidentemente a proposito di di Europa e a proposito di quello che accade alle porte dell'Europa secondo te da uomo diciamo che conosce che ha studiato e che vede e che parla con persone che hanno rapporti con il conflitto mettiamola così quali sarà lo scenario prossimo futuro di questa guerra veramente molto difficile dire sì io in breve io credo che Putin abbia sbagliato i suoi conti come si diceva pensava a una guerra lampo pensava a un collasso di un paese invece si è trovato un paese che resiste ha avuto una sconfitta militare oggi è allineato su un piano B si sta sostanzialmente riposizionando per occupare in modo permanente circa un terzo dell'Ucraina nella parte orientale nella parte meridionale per collegare per collegare i territori già conquistati dell'Ucraina e del Donbass però non promette nulla di buono guardate questa è una guerra che può ancora avere un esito drammatico cioè non è escluso anche un uso di armi non convenzionali il problema vero è che oggi insomma lo diceva bene un cartello che si vedeva forse a Kiev di qualche giorno fa cioè se la Russia smette di combattere finisce la guerra se l'Ucraina smette di combattere finisce l'Ucraina cioè diciamo siamo in un purtroppo in un vicolo cieco cioè nel quale giustamente l'Ucraina è un paese sovrano e si difende e continua a combattere e oggi con gli armamenti forniti anche dai paesi occidentali sicuramente in condizione di poterlo fare e ripeto qui c'è il tema del pacifismo delle armi però insomma io penso che le guerre di liberazione esistono e hanno anche un valore un valore ideale penso che noi sappiamo qualcosa insomma nel 43 nel 44 nel 45 anche tanti super pacifisti hanno fatto una scelta di aderire a un movimento a una guerra di liberazione che per sua natura è stata anche violenta anche drammatica terribile e dall'altro lato Putin deve capire è in una condizione tale dove dove oggi ammettere la sconfitta è molto molto difficile probabilmente infatti molti dicono bisogna trovargli una via d'uscita onorevole in modo che lui possa presentarsi non so se il 9 maggio o chissà quando molto difficile molto difficile io credo che alla fine purtroppo come tutte le guerre si giocherà sul terreno militare e quindi alla fine credo che la possibilità che l'Ucraina garantisca riesca a garantire una propria salvezza verrà sul terreno militare l'esito diplomatico probabilmente avrà con una mediazione con una qualche possibilità per Putin di salvarsi la faccia di motivare sostanzialmente di piccole conquiste territoriali rispetto a quanto aveva già forse una moratoria dell'Ucraina dell'ingresso dell'Ucraina nella Nato non sarebbe neanche inaccettabile è un via libera però è una forte accelerazione dell'integrazione europea credo che sarebbe un esito positivo anche Zelensky l'ha detto andiamo verso il termine poi vorrei lasciare la parola alla platea se ci fossero domande se mi fate cenno io così intanto mi preparo ho ancora una curiosità io fondamentalmente che è il ruolo degli oligarchi sempre rispetto a questa guerra rispetto a quello che hanno ottenuto a quello che potrebbero fare Abramovic insomma tutti coloro che potrebbero avere un ruolo se tu ci credi o no poco pochissimo io ho racconto io ne ho conosciuto uno di questi oligarchi che è Michael Khodorkovsky io l'ho incontrato un paio di volte a Londra poi si è sentito tante volte via Zoom via Skype beh Khodorkovsky era l'uomo più ricco della Russia era se non sbaglio un oligarca non creato da Putin era precedente sì però però sostanzialmente il modello lui era non era uno stico di santo era un uomo spregiudicato che ha diciamo colto l'opportunità delle finte privatizzazioni e dell'azienda di Stato che in una notte sono diventate si è trovato a essere un azionista con valore un patrimonio personale stimato in nove miliardi di dollari quindi pienamente inserito beh sapete la storia di Khodorkovsky Khodorkovsky a un certo punto fonda un movimento un'associazione culturale da lui finanziata Open Russia Russia aperta e va in rotta di collisione con Putin Putin riesce rapidamente a liquidarlo gli vengono sequestrate l'azione viene arrestato per fronte fiscale fa dieci anni in diversi gulag siberiani questo per dire io gli ho chiesto lui un mese fa esattamente la domanda che mi stai facendo gli ho detto ma secondo te si parla Abramovich si parla della possibilità che una parte di oligarchi una parte di potere economico politico si ribelli a Putin lui dice no molto difficile perché sono non c'è come nel mondo normale una libera imprenditoria con un grado di autonomia economica politica di azione culturale sono totalmente dipendenti dal sistema centrale cioè come lui dice come Putin ha fatto con me domani lo può fare con Abramovich in tre settimane lo fa arrestare lo fa condannare per fronte fiscale quindi io lo ritengo ti ripeto ho posto esattamente la stessa domanda che tu mi stai facendo a Michael Kodorkovsky e condivido quella risposta quindi di fatto tu non vedi delle uscite plausibili no vedo un collasso vedo un possibile collasso di quel regime nei prossimi in un anno due anni tre anni perché il grado di stenzione economica che sono state messe in cantiere e col voto oggi del Parlamento europeo potrebbe molto probabilmente incrementare notevolmente e quella è un'economia che può andare in default io quindi sono convinto che prima o poi in un paese in default una classe media che verrà drammaticamente impoverita ci sono ancora delle forze sane in quel paese di gente assolutamente normale di milioni di persone che vanno a scuola che lavorano che ambiscono una vita serena civile democratica io penso che quel regime potrebbe collassare ma non penso a un blitz delle prossime 48 ore no chiaro però paradossalmente quello che gli oligarchi non hanno il coraggio di fare potrebbero essere milioni di persone che rischiano di rimanere a fare io penso a un collasso poi sarà un mix sarà una parte di potere economico sicuramente ma oltre che gli oligarchi c'è anche un po' di impresa c'è diciamo professionisti c'è anche un mondo economico che verrà veramente fortemente indebolito nelle prossime settimane ma c'è anche una società civile anche abbastanza ricca c'è la Russia ti ricordo che noi condividiamo è un paese che comunque conserva anche una cultura una storia un patrimonio sì Musca San Pietroburgo poi c'è anche tutta una parte di Steppa dove sono fermi a Chekhov sì però è un paese secondo me di grande interesse anche al di fuori dei paesi con tante etnie tante culture insomma è un paese che per me potrebbe io penso che come raccontano molti di loro penso a Gary Kasparov per esempio lo dice con molta chiarezza lo dice lui lo dice Vladimir Karamursa Anastasia Vassilieva le radici europee della Russia sono chiare cioè alla fine con la Russia noi condividiamo storia cultura arte teatro letteratura ci sono molte più le cose che condividiamo come patrimonio e come DNA culturale che non le follie del satrapo di turno quindi io su questo sono sul meglio lungo per l'ottimista grazie